Bentornati a Football Benchmark, bentornato e benvenuto, bentrovato ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Andrea, questa settimana vogliamo parlare, grazie ai vostri studi, ai vostri approfondimenti, alla vostra conoscenza, dei nuovi grandi investitori che si affacciano al mondo del calcio. Naturalmente stiamo parlando dei fondi, dei private equity, che evidentemente hanno individuato nel calcio un settore in espansione dove ci si può guadagnare. Quindi la domanda forse è anche quasi retorica, ma perché i fondi ora si sono accorti del calcio? Sottolineiamo un punto fondamentale, l'interesse dei fondi era già presente prima della pandemia. Poi si è accentuato con la pandemia e vedremo il perché. Però l'interesse dei fondi prepandemico deriva dal fatto che c'è stata negli ultimi anni un'evoluzione del mercato dei media, un'evoluzione del mercato del calcio. Io ritengo che il calcio sia cambiato più negli ultimi dieci anni che nei 60 anni precedenti. Cosa è successo? C'è stata l'introduzione del financial fair play che ha portato in un certo senso, quantomeno per i grandi club, a una stabilizzazione delle performance finanziarie, ma soprattutto c'è stata una grandissima evoluzione del mercato dei media e l'introduzione delle piattaforme OTT, la possibilità di vedere il calcio attraverso le piattaforme streaming a bassissimo costo, che ha in un certo senso creato una competizione globale tra le squadre per accappararsi i tifosi e una trasformazione delle società di calcio in quelle che io chiamo società di entertainment o meglio forse delle vere e proprie media company. Questo è avvenuto prima della pandemia ed è praticamente l'opportunità che i fondi di investimento, i private equity, ma anche i family offices hanno visto nel calcio. Quello che è poi successo con la pandemia è che dall'opportunità si è aggiunta la necessità perché i club sono andati in difficoltà, c'è stata una diminuzione in parte dei ricavi commerciali, in parte anche dei diritti televisivi, ma soprattutto sono venuti a mancare completamente i ricavi da stadio che in Europa impattano circa il 15% dei ricavi totali e di conseguenza si sono presentate delle ulteriori opportunità. Naturalmente i fondi conosceranno, gli investitori conosceranno e conoscevano molto bene i numeri del calcio pre-pandemia perché come hai giustamente sottolineato tu, ora le società, i club hanno bisogno di un supporto, di una stampella, di un aiuto, soprattutto in questo periodo di crisi, ma questi erano i numeri, li conosciamo perché ce li hai raccontati in tante circostanze nelle nostre chiacchierate, però il settore del calcio era in crescita del 6,7%. Prima tu facevi riferimento al fair play finanziario, se andiamo a vedere la slide successiva dall'introduzione del fair play finanziario in poi, al di là del fatto che poi ne abbiamo parlato Andrea molto spesso della competitività che forse si è un po' persa, ma si è guadagnato in stabilità, questo grafico secondo me è estremamente significativo di quanto il fair play finanziario abbia contribuito a mantenere stabile l'investimento nel calcio e comunque in generale il calcio era un settore in assoluta crescita. Assolutamente sì e se paragonato alla crescita del mercato borsistico europeo, lo vedremo nella prossima slide quando vedremo appunto la crescita del valore d'impresa, la crescita è stata nettamente più del doppio rispetto al mercato borsistico europeo negli ultimi cinque anni. Come dicevi giustamente il financial fair play ha portato da una stabilizzazione delle performance finanziarie dei club, soprattutto dei grandi club europei, perché come appunto anche dicevi giustamente c'è stato un effetto collaterale del financial fair play è stata la polarizzazione e in un certo senso la diminuzione della competitività a livello europeo, basta vedere chi vince o chi si qualifica quantomeno per i quarti di finali, le semifinali delle grandi competizioni europee sono più o meno sempre gli stessi nomi. Ma questo è un fenomeno che in un certo senso è apprezzato dai private equity, perché i private equity vogliono investire in settori che danno stabilità, che hanno i cosiddetti cash flow stabili, in cui ci sia della predittibilità dei flussi di cassa. Ed è questa la grande trasformazione che è appunto avvenuta negli ultimi 7-8 anni. Naturalmente conosciamo molto di quello che è stato fatto finora, rispetto agli investimenti che ci sono nei club italiani, perché il primo campionato ad essere stato di grande appeal è stata la Premier, che aveva un'organizzazione già più completa anche già dieci anni fa, più internazionale, più globale, come hai detto poco fa te. In Italia cominciamo ad avere tante società che sono state acquistate da proprietà straniere, non necessariamente fondi, e in maggior parte, in maggior numero, piano piano che sia avanti, l'ultimo in ordine di tempo è stato lo Spezia, continua ad esserci questa grande attrattiva del calcio italiano. Sì, c'è stata una grande attrattiva del calcio europeo derivante dalla crescita notevole dei valori d'impresa, della redditività dei grandi club, della stabilità dei flussi di cassa a cui accennavo, e questo interesse negli anni precedenti è stato molto concentrato sulla Premier League. Pensate che oggi, come oggi, in questo momento in Premier League ci sono solo quattro squadre che hanno una maggioranza di proprietà inglese, il Brighton, il Newcastle, il Tottenham e il West End. Le altre 16 squadre hanno una maggioranza a capitale straniero. In questa grafica, quello che appunto possiamo vedere sono le squadre italiane, e sono 8 su 20, che hanno in parte, quantomeno, una proprietà straniera. Inclusa anche la Juventus, che chiaramente è associata alla famiglia Agnelli, però c'è una quota di maggioranza di circa l'11%, che dal 2011 appartiene al fondo l'Inseltrain, che ha anche una partecipazione nel Manchester United, ha una partecipazione nel Celtic del circa il 19%, il 29% nel Manchester United. Quello che appunto abbiamo potuto vedere, osservare negli ultimi anni, è l'interesse dei private equity, ma anche dei grandi family office, quindi parliamo di Fred King per la Roma, commisso per il Bologna e più di recente per lo Spezia, appunto, la famiglia Platek. C'è un forte interesse nel calcio italiano, ci sono delle aspettative di crescita, ci sono delle grandi opportunità derivanti dalla possibilità di sviluppare delle infrastrutture sportive, dai centri sportivi di allenamento, nonché chiaramente gli stadi, perché ricordiamo che nelle grandi leghe europee, le grandi cinque leghe europee, la Serie A è quella che ha il più basso tasso di proprietà di stadi, di stadi di proprietà. Andrea, tu hai fatto un riferimento molto importante e una distinzione comunque, al di là del fatto che sono comunque capitali stranieri, fra l'investimento personale, chiamiamolo così, quindi familiare, e l'investimento di un private equity. Nasce naturalmente dalla voglia di poterci guadagnare o comunque di fare un investimento che poi abbia dei ritorni da altre parti, però è chiaro che un fondo, quando fa un investimento, lo fa per un potenziale guadagno. Generalmente, questo almeno mi hai raccontato tu fuori onda, ci si aspetta da un investimento di questa portata un ritorno fra il 20 e il 25% rispetto alla cifra inizialmente investita. È troppo, secondo te, come aspettativa? È un'ottima domanda quella che riguarda appunto la distinzione tra un cosiddetto investitore privato attraverso un family office piuttosto che un fondo come potrebbe essere Elliot nel caso del Milan, perché le aspettative di un fondo sono indubbiamente solo delle aspettative di profitto e sia che sia un investimento in una squadra piuttosto che un investimento in una Lega, abbiamo visto il forte interesse di vari private equity sia nella Serie A, nella Bundesliga tedesca, ora si parla anche della Lega francese, lo fanno semplicemente con delle aspettative di ritorno. Io penso che arrivare a delle aspettative del 20-25% nel settore calcio possa essere piuttosto rischioso ancora, a meno che si compri una partecipazione in grandi squadre. Per altri tipi di investimenti in altri tipi di sport magari c'è forse la possibilità di raggiungere queste aspettative con più sicurezza rispetto all'acquisizione di una partecipazione di una squadra di calcio che è comunque molto legata alla performance sportiva. Detto questo, gli investimenti che hanno fatto i private equity nel mondo dello sport non si sono limitati al calcio, hanno avuto delle partnership, come abbiamo visto dalla nostra grafica, molto importanti nel mondo dei motori, tanto per dirne una, con il MotoGP che è con Formula 1 e ci sono delle prospettive, poi non so se tu sai dirmi o puoi dirmi quanto concrete o meno, addirittura sugli All Blacks, sulla Bundesliga, ma soprattutto sulla NBA. Assolutamente, l'interesse, io devo dire che di tutto questo ciò che mi ha sorpreso di più in un certo senso sono gli All Blacks, parliamo di un marchio veramente storico nel mondo dello sport, però anche qui chiaramente la federazione di rugby neozelandese si è trovata in difficoltà con la pandemia, c'è bisogno di liquidità e chiaramente si presentano delle opportunità che i fondi vogliono sfruttare. Lo vediamo chiaramente in altri prodotti che tu hai menzionato, dalla Bundesliga all'NBA, è di qualche settimana fa la notizia che l'NBA è aperto per la prima volta alla partecipazione dei fondi nelle sue franchigie ed è una novità in un certo senso assoluta. Bene, grazie mille Andrea per questa chiacchierata approfondita sulle opportunità o sui rischi, perché no, o sulle necessità che potrebbero avere i fondi nell'ingresso del calcio. Finisce qui Football Merchmark, grazie mille Andrea, l'appuntamento naturalmente è per la prossima settimana.